buon viaggio questa ventosa mi pare una cagata grazie a UK grazie a me finita la rotonda vedi mega rotonda sulla camera net mega rotonda sulla camera net e metti che lo fa la sole mette e batte come se non ci fosse un domani a me finita la rotonda buongiorno partiti andiamo alla stazione di San Donato proviamo a andare a Citanò no a Citanò ho detto Citanò a Venezia mo a Citanò Giulia saluta e dai Giulia hai visto che fosso che c'è qua un canale fosso fosso bro c'è qui sotto fosso bro c'è qui sotto fosso c'è qui sotto Non premere il pulsante, non premere il pulsante, non mettere le mani davanti, fai ciao Matti, non premere il pulsante, non premere, niente, stavo a premere il pulsante, ma ho fatto una pena! Grazie a San Marco, grazie a San Marco può anche passare. Giulia, diamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!